Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un pezzo di YouTube che è With or Without You. Cantare in Libertà Bene, questa canzone si compone di quattro accordi. Il primo accordo è il Re maggiore. Sappiamo che questo è il Do dove ci sono i due tasti neri a Do, quindi questo è il Re. E l'accordo di Re maggiore si compone di queste tre note. Re, Fa diesis, La. Suonato con 1, 3, 5 come dita. E faremo due battute per ogni accordo. Quindi Il secondo accordo che abbiamo già visto è il La maggiore. Quindi questo è il Do, andando indietro il Do, Si, La. Quindi suonando La, Do diesis, Mi, avremo l'accordo di La maggiore. Poi c'è il Si minore, quindi Si, Re, Fa diesis. Suonato 1, 2, 4. Ed infine c'è il Sol maggiore, che è Sol, Si, Re. Poi dopo nel ritornello è sempre uguale. E anche nella parte successiva, diciamo, dove Bonavox urla. Ora ovviamente per modo di dire. E quindi la canzone poi si ripete sempre con questi quattro accordi. Bene, come sempre io vi lascio in descrizione la viteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra. Vi lascio dei link su come imparare tutti gli accordi al pianoporte. E vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Ciao.